salve a tutti e bentornati dal vostro luigi free 85 beh faccio questo video finalmente ho trovato anche una posizione idonea più o meno idonea provvisoria al telefonino con cui faccio i video e niente sto come dice appunto il titolo mettendomi in azione diciamo come sorta di business tra virgolette nel senso che per quanto mi riguarda io sono anni che trasformo e creo le texture si chiamano così le texture per le creazioni degli elicotteri effettivamente elicotteri per l'elisoccorso del 118 per fly simulator nomino fly simulator non perché io sono in associazione con la ditta fly simulator per l'amore di dio no no io sono indipendente faccio per i cavoli miei nel senso che su richiesta chi mi conosce e tramite le conoscenze e quindi giro di amicizie io su ordinazione mi viene detto guarda vogliamo la texture di quel determinato elicottero che c'è in quella determinata città in uovo di trinca ti mandiamo qualche foto dell'elicottero e ci puoi fare la texture dell'elicottero così lo copiamo nel file di riferimento in fly simulator 2004 fly simulator x e così via per poterci volare per me va bene cioè su facebook ci sta già elisoccorso fly simulator è una cosa del genere se non mi ricordo bene il titolo del gruppo dove ci sono già le foto di varie texture che io stesso ho creato e mandato a delle persone intanto io che parlo con voi voi non ci crederete ma sto creando una texture esattamente l'h145 dell'aerocopter che c'è in dotazione in italia come elisoccorso giallo sia a bolzano che già allora ci aspetta c'è a bolzano brescia e poi l'h145 tra un po' verrà anche l'elisoccorso di bologna c'è già presente come elicottero anche in penso da quello che mi ricordo in toscana mi pare in sicilia penso anche in sardegna adesso non mi ricordo bene comunque nel sud italia un po nel centro questo modello sta già spopolando e ovviamente chi me lo richiede mi manda si manda delle foto e io provvedo a crearlo con determinati programmi così per passatempo su per file simulator perchè dico microsoft file simulator? perchè vaggiano solo su quel tipo di processore solo su quel tipo di programma per esempio se voi andate già a prendere un altro programma tipo vediamo un attimo se mi viene il titolo accidenti scusate un attimo un attimo non dicevo vedete io non ecco niente di scritto sotto quindi vedete faccio tutto in real time oh non mi viene in mente qua c'è il mouse file simulator punto 7, punto 8, adesso c'è il punto 10 x plane oh non mi viene in mente adesso i file di x plane sono molto difficili da sistemare per quanto mi riguarda e da poter far girare poi nel programma io stesso ho x plane 7 e 8 sono un po datati perchè per esempio per far volare un h145 aerocopter che sarebbe l'ex modello c145 del precedente per x plane ci vuole x plane 10 x plane 11 già come programma perchè già sono abbastanza avanzati come modelli non ha creato la microsoft per lo meno da quello che so io non è stato creato il modello h145 t2 per il modello per fly simulator l'ho cercato per mariamonti non si trova qualche santo che ho in cielo che è un mio caro amico di brescia che io saluto ciao non faccio nome e cognome per il semplice motivo di privacy perchè non ho chiesto l'autorizzazione a lui per poter fare il suo nome neanche di servizio proprio il suo nome è sul mio video quindi non lo faccio però ha capito lui provate che abbia capito lui chi è di chi mi sto riferendo mi ha fatto avere le texture due texture di riferimento per appunto la nuova versione per la compatibilità con fly simulator x e fly simulator 9 o 2004 che alla fine sono sinonimi e ovviamente ovviamente io l'ho già provveduto a modificare ci sono dei problemi ovviamente come immaginavo per via del formato del file i formati dei file per fly simulator sono dei punti bmp o comunque trasformabili tramite delle dxt bmp mentre i file per x plane o anche per i modelli che io ho avuto adesso in dotazione da modificare sono dei punti dds esistenti esistono i programmi per i conversioni il problema è che quando io lavoro che converto un file dds in bmp per la lavorazione quel programma dopo a riconvertirla in dds non me lo prende e questo mi fa girare talmente tanto le palle che io non so più dove sbattere la testa adesso devo andare a cercare infatti altri convertitori perché io non so più dove mettere le mani intanto cerco di modificare il file di sistemarlo c'è da perderci la testa comunque per motivi economici io non sono uno che fa listini perché comunque non ho un'azienda non ho niente io faccio tutto improprio quindi se qualcuno non è una promozione se qualcuno vuole farmi delle piccole donazioni spontanee i soldi intanto per intenderci per il lavoro che mi chiedono chiesti tipo le texture i file il tempo che ci metto la faccia che ci metto lo scaricare il programma e tutto fa tutto il lavoro c'è da perdere anche la vista sinceramente perché fare anche un semplice lavoro per una texture da sistemare in maniera regola d'arte tutto va ci vuole quasi due ore e mezza di lavoro non sto scherzando e stare dalle 6 alle 8 ore attaccate per fare un file solo un file il texto per un per un elicottero da sistemare e modificare la telepaginazione tutto vuol dire tanto io ho due occhi grandi come una casa ma anche a me vedete si spaccano i capillari perché faccio fatica e mi hanno detto di rallentare quindi ovviamente prima ci impiegavo 24 ore neanche 12 ore per fare un intero file fra il simulator per chi me lo chiedeva adesso ci impiego due giorni tre giorni male che vada se proprio non ho tempo anche una settimana però è proprio non sono mai andato una settimana se non una volta che ero 40 di febbre mi sono fatto 5 giorni con quasi 40 di febbre quindi ho dovuto per forza lasciar perdere indietro tutto quello che mi veniva stato chiesto ovviamente l'unica cosa che chiedo è io adesso in questo weekend fado a fare post e pay o paypal o quel cavolo che è di quelle ricaricabili così se qualcuno vuole farmi una piccola donazione visto che oltretutto io come attualmente non sto lavorando purtroppo perché è difficile per una persona normale già trovare un lavoro io che sono anche uno come ho già detto un disabile col girello è ancora più difficile in un'azienda ti guardano come dire oddio mio è questo che cavolo vuole cioè praticamente ti buttano fuori senza neanche guardarti e attualmente trovare un posto di lavoro per noi invalidi parlo diciamo per tutti noi di invalidi è una cosa altamente difficile però si fa si fa si fa e quindi di conseguenza ogni cosa che faccio cerco di chiedere a qualcuno se ha voglia di fare una piccola donazione spontanea qualunque essa sia io intanto mi accontento anche di avere qualche amico in più che mi smetta un like ai miei video che mi commenta i miei video in maniera sempre in maniera educata e con rispetto ovviamente poi ovviamente se qualcuno vuole farmi una piccola donazione io adesso faccio in fine settimana questa carta ricaricabile che mi permetterà di cornire a voi un codice tra virgolette chiamiamolo codice IBAN adesso non so nemmeno io come chiamarlo che vi permetterà da casa direttamente online di farmi una ricarica cioè è come la storia di un mio amico qualche tempo fa che mi doveva dei soldi non sapendo come fare ho detto ascolta questo è il mio numero di telefono questo è il mio gestore mettimi dentro il quantitativo di soldi che mi devi e lì fai una ricarica al telefonino questo funziona uguale solo che invece di darmi una ricarica al telefonino viene fatta la ricarica su questa carta che mi permette di usare quei soldi che io avrei dovuto avere in cash cioè in carta, avanti così, in carta facciamo l'ipotesi ce li ho su quella carta che mi permette poi a mia volta di potermi comprare ciò che mi interessa ciò che mi serve oppure di prendere i soldi direttamente e usarli per altri motivi che sono sempre cose che mi possono essere utili ovviamente io non parto tempo a spendere soldi in puttanate di solito li uso in medicina o semplicemente per organizzare anche degli eventi dove posso essere presente io e magari parlare anche con i miei follower con coloro che mi seguono e a cui tengo molto ovviamente quindi ringrazio sempre i miei follower i miei seguaci simpaticissime persone anche se non vi conosco per me siete persone fantastiche e quindi questo video serve solo per comunicarvi anche questa cosa che io ho questa attività che faccio a tempo perso ormai da anni fino adesso l'ho fatta gratuitamente adesso purtroppo per motivi di sussistenza ho bisogno anche io di avere se possibile una piccola aiuto ecco un aiuto nel senso di donazione sempre donazione non faccio l'elemosina a nessuno quindi praticamente se qualcuno dopo che mi ha chiesto il lavoro ha visto il lavoro se gli è piaciuto mi può mandare tranquillamente una donazione sulla tessera tramite il codice poi se non lo vuole fare mi dispiace va bene l'ho fatto gratis però pazienza basta che mi mette anche un like io sono già contento non voglio l'elemosina di nessuno che sia ben chiaro lo faccio ben volentieri ovviamente adesso come adesso se uno vuole farmi una piccola donazione io sono ben contento dono donazioni semplici spontanee non ci sono pagamenti cioè ragazzi come tutti anche io devo pagare le tasse anche io devo pagare le bollette e tutto il resto quindi comunque sia si fa quello che si può io sono una persona semplice però ovviamente io faccio queste cose quindi ora questo video solo per informarvi che faccio anche queste cose qua di texture per gli elicotteri creare le livree degli elicotteri per far volare con il simulatore di volo le persone che me lo chiedono prima facevo queste texture gratis adesso se è possibile una piccola donazione a chi me lo vuole chiedere queste attività queste cose che faccio a tempo perso io non dico di no se non sono volentieri niente amici come prima la stretta di mano virtuale e via andare ok un bacione a tutti e grazie dell'ascolto ciao